buongiorno e bentornati su maria non da retweet family la prima neve di questo anno siamo in montagna siamo stati anche l'altra settimana qua con il figliolo e sapevamo che arriva la neve qua siamo il posto si chiama mulze se pare che gente vi farò vedere il posto come eccoci qua ragazzi qua siamo a mumze siamo a 1036 metri di altitudine ha nevicato qua ha nevicato i giorni scorsi infatti da noi pioveva e pensavo che qua nevicasse c'è chi è arrivato in moto ha coraggio insomma il mio figlio è contentissimo niente figlio va sulla montagna di neve dei bambini neve anche se non siamo proprio attrezzati però si ci sta poi qua abbiamo dei negozi tipici che magari entrare vi faccio vedere c'è un po di gente ecco eccoci qua bellissimo posto qua c'è un piccolo lago ci sono delle passeggiate poi qua vicini nelle vicinanze per sciare posti insomma un po di tutto ecco troppo bello ha nevicato tanto qua adesso eccolo lui finati bambini per loro proprio bello questo giro qua magari prendiamo qualcosa da mangiare o anche un vin brulee perché no anzi io non posso perché prende l'antibiotico peccato ci stava adesso sicuramente anche a calterbone c'è dalla neve quella bella vista da questo lato si fa il giro del lago troppo bello troppo bello e poi nell'aria fresca così bella con la prima neve di questo anno che noi lo vediamo troppo bello si scivola un po bisogna fare attenzione bella questa sirenetta qua c'è anche la storia della leggenda di questa questa sirenetta qua magari in un giorno lo leggiamo ecco poi magari vi lascio a voi un po in tedesco e un po in inglese così vedete qua abbiamo la versione in inglese e poi quella in francese peccato che non c'è italiano però visto che qua siamo vicini alla francia è giusto che così potete leggere un po davvero troppo bello adesso con la prima neve poi la neve per i bambini una roba fantastica e mi ricordo anche noi che almeno io quando ero mi piaceva tanto quando ero bambina adesso meno che si deve andare a lavorare disagi però in montagna sta sempre bene la neve dentro un po vedere dentro un po vedere prodotti tipici salumi e robe varie anche qui c'è un altro negozio più o meno simile a quello l'acqua con i prodotti tipici dalla foresta nera da questa zona qua vedete i orologi a cucù sono a casa loro proprio vero Magari prendiamo uno per il camper, eh sono belli dai, sono più belli, bella vista qua, però noi andiamo un po' giù, cioè giù, sì non tanto lontano da qua, e c'è il parcheggio più grande, possiamo fermarci da mangiare, bere un tè o qualcosa, ecco abbiamo messo il pentolone, siamo parcheggiati qua vicino a un impianto scistico, ancora non funziona ma sicuramente poche settimane funzioneranno, li aprono, perché visto che è arrivata la neve arriverà ancora e quindi aprono presto. Il popolo silenzio, vanno per la loro strada, ci vanno ci verba in un mondo di cannibili. Siamo fermati qua, in questo ampio parcheggio, vicino a questo impianto scistico, vicino alla neve. Passiamo la notte qua, lì c'è un locale, qua fra poco quando apriranno l'impianto scistico, qua c'è la pista notturna, che bello, che aria fresca, davvero, è la prima notte, è vicino alla neve, davvero bellissimo. Ecco, siamo svegliati, siamo svegliati con la nebbia, poi stanotte ha piovuto e la neve si è sciolta. Niente, adesso colazione e ci mettiamo molto, andiamo da una parte, da qualche parte dove possiamo fare due passi. Vediamo cosa possiamo fare oggi, l'ultimo viaggio prima di portare il camper in carrozzeria. Ecco, ci siamo arrivati a Friburgo, facciamo un giro nel centro di Friburgo, si stanno preparando per il Natale, qua, con le bancarelle. Vediamo, ci fermiamo da qualche parte a bere un caffettino, qualcosa. Devo dire che abbiamo bevuto un ottimo caffè, molto buono, 1,90 euro, però ne spesso buonissimo. Carichino anche a Friburgo, siamo stati ancora, però, abbiamo detto, visto che non siamo lontani, dai, facciamo un altro giro. E si sta bene oggi, anche se è nuvoloso, ma è un'aria calda, c'è un po' di vento, o meno, si sta bene, si sta bene. Questa cattedrale è impressionante, una parte che si sta ristrutturando, comunque, molto interessante questa città, bella a modo suo. Per fortuna che oggi abbiamo bel tempo, facciamo una passeggiata. Niente, vediamo, forse mangiamo da qualche parte. C'è un po' di sole. Ecco il coccodrilo. Ecco, noi eravamo parcheggiati qua, ci sono altri camper, sì, è un parcheggio per le macchine, anche per camper. Il bello è che oggi non si paga niente, comunque è un parcheggio solo giornaliero. E praticamente siamo vicinissimi al centro di Friburgo. Adesso andiamo verso casa. Adesso vi faccio vedere il cambio della cassetta del bagno. Siamo qua, da dove ho preso io questo mezzo. E qua è il bello che hanno questa cosa automatica, che pulisce e costa due euro, però fa un servizio completo. Ti lascia anche la soluzione dentro e ogni tanto mi piace farla, disinfettarla, farla per bene. Ecco, si apre il sportello. Abbiamo la cassetta. E poi, sperma di start. Si chiude e bisogna solo che sono vari tipi di cassette del bagno. Io da questa parte o da quest'altro ci sono altri modelli. Comunque sì. Adesso parte e te la pulisce. Eccolo, è finito. Qualche minutino ci ha voluto per pulirla. Si prende, si mette il coperchio. E si rimette qua. Trac, trac. Ed è tutto a posto. Ogni tanto veniamo qua, ma ultimamente era difettosa la cosa e adesso sembra che l'hanno aggiustata. Niente ragazzi, adesso faccio anche scarico dell'acqua grigie e poi la prossima settimana lo porto qua, che da qua lo portano in carrozzeria dove lo stanno aggiustando. Spero che ci metteranno non tanto tempo. Vediamo, visto che c'è l'appuntamento, tutto, quindi i pezzi sono arrivati, quindi forse è tutto a posto. Domani verrò qua di nuovo a dire che, insomma, permettimi d'accordo, che lo porto un giorno prima, che in teoria deve essere mercoledì la mattina, ma io faccio il turno di mattina e quindi lo porto a parte di pomeriggio. E lo lascio qua e poi dopo l'ora lo porto. Quello che vedo qua non vedo novità sui mezzi, sui furgoni, stessa cosa di quello che vedo, neanche sui mezzi grossi, solo questi piccoli qua che si vedono, che male non sono, vi faccio vedere. Questi qua sono belli così per fare i viaggetti normali, però costano un botto. Però li puoi usare anche come macchina normale, ecco. Però c'è cucina, c'è... Puoi dormire tranquillamente in quattro o in due, quel che sia. Però i prezzi sono abbastanza alti. Qui abbiamo gli stessi modelli, uno più o meno come il mio, però sulla meccanica Ford. Poi abbiamo della Sunlight, poi cosa... un Himmer e così via. Mi pare anche là sempre sul furgone, cosa... Ecco, sempre Sunlight e così via. I prezzi li avete visti, non ho visto novità. Qua ci sono altri modelli, ma niente novità. Adesso io prendo il mio mezzo e si va a casa, poi... Poi niente. Piazzi, cosa dirvi? A me piacerebbe vivere in camper. Ho fatto questa settimana e ho superato la prova, anzi mi piace il mondo. E' proprio un altro stile di vita che a me piace tanto, tantissimo. Vediamo nel futuro, spero di poter farlo per sempre, davvero. Visto che anche sinceramente con i costi sono minori tutti, però è un'altra cosa, un altro feeling che ce l'hai quando vivi, quando... anche se devo andare a lavoro, è tutta un'altra cosa. Mi piace un mondo. Niente, per il momento è tutto. Vi tengo aggiornati con quello che succederà con il nostro mezzo. Intanto vi saluto e vi ringrazio che siete iscritti al canale. Al più presto, ai prossimi viaggi. Al più presto. Prima cosa, si svolta tutto. Tutto quello che è sul circuito di acqua. Non c'è ancora acqua abbastanza. Non c'è ancora acqua abbastanza.